Sono in corso i controlli medici del caso, disposti sulla salma del giovane Simone Sivo, allievo della scuola della Guardia di Finanza di Coppito, morto sabato in una camerata della struttura. Il giovane di Napoli stava preparando, secondo le prime ricostruzioni dei fatti, la valigia per tornare a casa, quando di colpo avrebbe accusato un malore davanti ai suoi colleghi, che nulla hanno potuto per salvarlo. Inutili, infatti, tutti i tentativi di rianimarlo. Stando alle testimonianze dei familiari, il ragazzo non aveva avuto mai problemi di salute in passato. Di certo la procura ha aperto un'inchiesta per far luce sull'accaduto, ma le ipotesi più probabili restano quelle dell'attacco cardiaco o dell'anorisma. Sicuramente grande sconcerto in caserma, dove il ragazzo era uno dei migliori secondo i racconti e dove non aveva avuto mai problemi ed era amato e stimato da tutti.